buongiorno ragazzi e ragazze benvenuti in un nuovo video oggi facciamo un video diverso da quello che vi avevo promesso di fare un video in cui facevamo una pochette o comunque una borsa con la stoffa che abbiamo tinto nel video precedente ma in realtà ho poco tempo a disposizione e quindi ho deciso di portarvi con me per farvi vedere i lavori che voglio fare all'interno della mia camera da letto slash laboratorio di cucino e anzi ho bisogno del vostro consiglio detto ciò io adesso mi trovo al mercato riunale vado a fare i miei acquisti dopodiché passiamo subito al laboratorio a presto ragazzi sono tornato dal mercato alla fine ho comprato semplicemente il filo per l'impuntura dei jeans che mi servirà per il manichino ebbene sì sto iniziando a cucire il manichino sartoriale tra l'altro ragazzi ho deciso di prenderlo della taglia 44 che è la taglia maggiore dei cartamodelli standard burda così che nei prossimi mesi possiamo anche cucire qualche cartamodello burda detto ciò adesso passiamo al motivo di questo video vi faccio vedere la situazione attuale del laboratorio quindi il prima del cambio allora iniziamo da qui qui vabbè potete vedere lo sfondo delle introduzioni allora qua cosa voglio cambiare il quadro di barbie è bellissimo però come potete vedere ogni volta si nota il riflesso quindi ho intenzione di creare qualcosa con il macramè qualcosa di bello grande e ci filmerò anche il video ovviamente e quindi dovrò togliere tutte quante cose con riflesso e mi dispiace ma dovrò forse togliere anche i due righelli e dovrò cambiare in qualcosa questo qui è carino che dice throw counters around like confetti quindi spargi la gentilezza intorno come se fossero dei confetti quindi che in inglese confetti significa quelli che si tirano a carnevale coriandoli come se fossero dei coriandoli qui vabbè abbiamo la situazione organizzazione stoffe speravo che i cestini questi grossi di chea il isamla entrassero per così perché sarebbe stato perfetto ma purtroppo escono troppo quindi dovrò organizzarmi in qualche altro modo di questi cestini ne ho due perché sono quelli che uso per i progetti in corso tra l'altro questa soffa qui vi ricordate la tenda del mercato la utilizzerò per coprire la testina del letto infatti il letto che è di mondo convenienza fantastico è durato ce lo penso da tre anni e mezzo quattro il problema è che con l'usura vedete queste copelle non resiste quindi ho pensato di andarlo a foderare quindi fatemi sapere anche se se vi interessa questo progetto se vi può essere utile il resto che tutta la parte intorno la lascerò invariata qui abbiamo l'ulteriore scatola con di stoffe di progetti in corso tra l'altro questi sono alcune delle stoffe che ho tinto con la tintura che mi è venuto molto bene ora passiamo alla parte principale la scrivania come potete vedere io ho questa scrivania che sono letteralmente due pannelli di osb con le tavole di legno all'interno per dare più pesantezza quello che voglio fare è creare un classico tavolo da cucito vi inserisco adesso una foto usare questo tavolo da cucito allo stesso tempo ci saranno dei cambiamenti che farò alla struttura intorno perché la struttura intorno normalmente c'è il letto in mezzo e gli scomparti sopra ci dovrebbe essere tipo dvd libri cose del genere e quindi sono alti 25 centimetri i visori che fanno l'altezza perché ovviamente ci devi mettere i libri e tutto quanto però per me sono troppo alti e infatti cosa ho fatto ho preso due tavole che taglierò a misura dell'altezza di 10 centimetri quindi verranno degli scaffali veramente bassi perfetti per mettere scatoline scatolette con le varie minuzierie ed inoltre da risparmio casa ho preso questi sottomensola vedete che utilizzerò sporadicamente quindi quando sto cucendo quando sto facendo i vari progetti e poi qui dove adesso c'è la bagheca di sughero andrò a creare qualcosa che vedrete insomma lavoro da fare ce n'è come dicevo ragazzi lavoro da fare ce n'è e anche tanto di sotto ho i pezzi del manichino ovvero la base le varie bagheche quelle forate e altre cose che sto dipingendo oltre a sistemare qui è un casino tra l'altro lì dietro vedete un'anteprima del manichino vediamo se qualcuno poi capirà di cosa parlo quando uscirà il video detto ciò ragazzi io spero che questo video vi sia stato d'aiuto ma non penso in questo caso che vi sia stato d'aiuto questo video però però questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo settimana prossima con dei nuovi video finché non finirò il laboratorio tutto anche perché devo pure dipingere le pareti i video usciranno magari uno a settimana però prometto ragazzi perché settimana prossima filmerò un tutorial giure in giurello si dice vabbè fino ad allora ragazzi buona giornata buon mercoledì e niente noi ci vediamo presto ciao ehi ciao tu senti il video è finito è vero però se ancora non hai visto questi video uno raccomandato da youtube e uno che è il mio ultimo video quello precedente a quello che hai appena visto beh valli a vedere e se ancora non l'hai fatto metti un mi piace e clicca il mio logo quello con scritto a diego che stiamo iscriviti al canale noi ci vediamo presto